Guido di Fabio e il suo Martinsicuro non vincono proprio dalla sfida di andata con il Ponte Romano l'obiettivo è bissare l'unica in posizione stagionale al cospetto di Guerino capitano che sceglie inizialmente Francia dietro Pallitti e Pellone la verticale proprio per Daniele Pallitti che fulmina con il mancino Matteo Cannella passa in vantaggio il Ponte Romano implacabile l'attaccante costretto ad abbandonare il terreno di gioco anzitempo qualche istante dopo per un colpo subito all'altezza della metà campo al suo posto di Francesco al trattegola per il Ponte Romano che nel corso della prima frazione di gioco perde pure Loris Pellone attacco da reinventare dentro Matteo Di Ludovico avanza Leonardo Gentile risistemato il reparto offensivo Francia Murato quindi Davide Di Sante velleitaria la sua conclusione immagini di Mario Giacchetta nel secondo tempo Dolegowski che rimedia all'errore in occasione del gol dello svantaggio la sua progressione lo scarico per Pizzi prima chance per il Martinsicuro segmento favorevole per i padroni di casa la testa di Calvaresi sugli sviluppi di un corner Francia prova a piazzarla su calcio di punizione quindi Di Ludovico ma si erge ad autentico protagonista in due occasioni nel giro di qualche secondo Matteo Cannella nella seconda occasione resta a terra dopo essersi immolato per salvare il Martinsicuro nello scontro fortuito con l'attaccante Pontarolo nulla di particolarmente grave per il numero uno Biancazzurro errori di misura per Maranella e di Ludovico che si ripete anche di testa non la chiude il Pontevomano che rischia la Beffan graziato da Calvaresi vicinissimo all'1-1 nel finale al Tommolini Martinsicuro 0 Pontevomano 1 Aurelio Massacci ti chiedo intanto è stata una vittoria fondamentale perché sono tre punti ovviamente in chiave salvezza e ti chiedo anche le condizioni fisiche poi di Pallitti e di Pellone che sono usciti entrambi nel primo tempo Sì, a noi adesso in questo momento Pallitti in ospedale sta facendo una risonanza ha fatto già i raggi, penso che non siano condizioni gravi però ha molto dolore la schiena non si può muovere, non può camminare quindi aspettiamo in serata per le novità Noi oggi siamo rimasti in campo senza attaccanti, abbiamo avuto penso 5-6 palle gol potevamo fare qualche gol, potevamo chiudere la partita prima Sono orgogliosi di loro perché molti di loro giocano il sabato con gli allievi, la domenica con la prima squadra è lunedì con la Juniores quindi non si tirano mai indietro perché tante volte diciamo guarda e lasciamo riposare, no no Mist vogliamo esserci quindi questi ripeto sono segnali importanti fa piacere per Doledoschi perché dopo l'errore del gol che ha commesso si è ripreso alla grande e ha fatto una grandissima partita Grazie